Salvini sarà in prima fila, il casello di Gallarate in provincia di Barese è pronto alla protesta più clamorosa, non pagare il casello. Oggi ci sono mille chilometri di autostrade al sud dove non si paga un centesimo di euro e al nord ci sono aumenti che arrivano al 15%, quindi non esiste. Ci sono centinaia di migliaia di cittadini che non pagano e ci sono altri coglioni al nord che pagano, quindi non è possibile che lo Stato se esiste intervenga perché se bisogna pagare si paghi tutti la stessa cifra. Ripeto, 8 euro per andare avanti e indietro da Milano a Como per gente che lavora è un furto, mentre se uno gira sul grande raccordo anulare di Roma, può farlo per sei mesi, non paga una lira, se uno fa i 400 chilometri della Salerno-Reggio Calabria non paga una lira, di far la figura dei cornuti emazziati no, e quindi se dobbiamo cominciare a disubbidire, cominciamo a disubbidire. Il motivo della rabbiatura è ben noto da molti giorni, ossia da quando il governo ha autorizzato i vari concessionari autostradali a ritoccare verso l'alto i pedaggi di fatto delle sole arterie del nord. Ecco i dati che abbiamo raccolto sui rincari dei pedaggi autostradali. Sulla A9 Milano-Como per 38 chilometri di strada si paga 3,90 euro, sulla A8 Milano-Varese per 45 chilometri il costo è di 3,20 euro. Insomma al nord ci sono stati rincari fino all'11%, mentre al sud il governo Letta ha appena stanziato 340 milioni per la Salerno-Reggio Calabria, che ovviamente rimane gratis, insieme alla A29 Palermo-Mazzaro del Vallo e ovviamente al grande raccordo anulare di Roma.